C'è anche cacao? C'è anche cacao? C'è anche cacao? Tu vuoi fare anche tre? Un amministro e una presidente, non ci sono due. Mi scambi pure la messa. Ma c'è un caffè? C'è un caffè greco. Poi vedremo domenica. Ora c'è un caffè. Un po' di yogurt fatto da noi? Un frullatino. Faccia lei. Osservate con quali mani del genitino viene fatto il cappello. Un frullato Lombardia. 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 Grazie a tutti.